Mamma mia che sta succedendo, mamma mia santa, stanno andando ai poliziotti, madonna mia, madonna quello che c'è, questo poverino, madonna mia, madonna mia santa, non c'è una rivoluzione. Mamma mia, 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 mamma mia Un gruppo di loro ha cercato di raggiungere la sede della... No, 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 ragazzi, ragazzi! Ehi, che fate? Calmi, calmi, stiamo lavorando, eh! Stiamo lavorando! Stiamo lavorando, stiamo lavorando, ehi! Non vamente! Vai, non! Scappa, scappa! Scappa, 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 scappaberi! Scappa, scappa, scappa! Ci hanno aggredito! Non, 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 non... Grazie a tutti.